Colonnello, un'importante operazione anticontraffazione, avete recuperato merce per oltre 2 milioni e 500 mila euro. L'attività è cominciata sul fine dell'anno scorso, verso novembre, a seguito di alcuni sequestri che facciamo qui in zona, tra Pescara e Montesilvano, e abbiamo sviluppato l'attività perché, ripeto, è cambiato un po' il modo di fare. Adesso non si detengono più grandissimi quantitativi di merce contraffatta, quindi nell'ordine dei migliaia di capi, ma preferiscono i soggetti che pongono a essere quest'attività illecita, comprare capi anonimi, confezionarli con le etichette sempre riprende sul mercato illecito, per poi rivenderle in genere a grossisti e a coloro che li smistrano poi ai vuoi comprare, diciamo, quelli al dettaglio che hanno magari 10 pezzi. Quindi siamo riusciti a ricostruire questa filiera facendo interventi in due o tre opifici, dove abbiamo trovato intendo pure il personale a lavorare, quindi il personale di cittadini senegalisi, intenti a cucire con il macchinario che potete vedere o a stampare delle etichette, e che poi, ripeto, assemblando questi capi venivano poi venduti anche in negozi, abbiamo riscontrato anche in qualche negozio nel Terramano. Ci sono oltre 100 indagati, ma parliamo solo di cittadini stranieri o sono coinvolti anche italiani? Sono quasi cittadini stranieri, però anche qualche italiano, come ripeto, in qualche negozio in cui abbiamo trovato questi capi in vendita, poi, come vedete, anche dal video che abbiamo girato durante le perquisizioni che abbiamo effettuato. Ovviamente, come potete vedere, il fattore di questi capi è molto preciso, per cui, insomma, non danno adito a molti sospetti, insomma, che si pensa siano originali, invece, in realtà, sono fatti molto bene, però sono contraffatti. Come vedete, anche dalla documentazione, quel poco di documentazione commerciale sono riusciti a rinvenire, che, insomma, è assolutamente fittizia.